Seconda vittoria consecutiva per la primavera di Luca Vigiani dopo la Juve, a Casteldebole chiede anche il Genoa per 1-0, firmato Raimondo. Mister, una vittoria che serve come il pane. Sì, vittorie servono sempre. No, è stata una bella gara, ha giocato bene dai ragazzi, quindi il pensiero mio è che si siano meritati questi tre punti dopo una bella prestazione. Tra i 5-2 a specchio, giocavate nello stesso modo con il Genoa, partita molto bloccata, l'ha deciso il classico episodio. Sì, non c'è stato grandissime occasioni, noi abbiamo mantenuto tantissimo la palla, qualche volta siamo stati un po' troppo frettolosi nel cercare l'imbucata, però abbiamo tenuto per gran parte la partita il pallino in mano, ci sono stati dei presupposti per creare occasioni dal gol, alcune le abbiamo create, soprattutto nel primo tempo, e insomma, ti ripeto, credo che sia meritati i punti per i ragazzi. 30 punti in classifica, 6 vittorie nelle ultime 8 partite casalinghe, rispetto all'inizio dove invece in casa si faceva grande fatica, cosa è cambiato? I ragazzi sono cresciuti, hanno lavorato bene, piano piano stanno raccogliendo frutti, dobbiamo ancora lavorare, c'è da migliorare tante cose, era una squadra, abbiamo sempre detto, un po' con la società inizialmente, è stato iniziato questo percorso, i ragazzi erano giovani, c'era bisogno di un po' di tempo, però conoscendo le qualità avevamo fiducia e piano piano si sta vedendo i frutti, c'è da continuare, però si lavora per quello.